C'è anche il commissario prefettizio Gaetano Tufariello, il segretario generale tra i 15 contagiati, risultati positivi al coronavirus al comune di Andria. Il focolaio era cominciato nei giorni scorsi dopo un primo caso riscontrato. Gli uffici comunali, a cominciare dal palazzo principale di Piazza Umberto, sono stati sanificati, mentre altri uffici del comune resteranno chiusi almeno fino al 2 ottobre. Al momento si attendono ancora gli esiti dei 180 tamponi effettuati tra tutto il personale e il Dipartimento di Prevenzione della ASL ha già avviato tutte le procedure di contact tracing delle persone risultate positive. Dalla Prefettura intanto fanno sapere che offriranno tutto il supporto necessario per il regolare svolgimento del ballottaggio previsto per il prossimo 4 e 5 ottobre. Per sopperire i casi di positività o quarantena dei dipendenti dell'ufficio elettorale, la Prefettura ha messo a disposizione il proprio personale per sopperire all'eventuale mancanza.